Guarda il messaggio che sta passando adesso, scusate se ho perso il conto, Semproni ha giocato a calcio, a pallannuoto, cintura nera di karate, grande maratonetta, meno male che alto un metro è una banana, però la banana la do a tua sorella, se no sarebbe stato anche un campione di basket, PS o una sorella buona, vedi? Allora domani la banana si piace assorto, ma non la faccio mai, ma te ne dico io, tu a domani, già le ho detto che le donne non si portano l'asene dentro a un letto perché ti ha paura che scracci le lenzone, comunque a questo caro amico che lo fa parlare solamente l'invidia, se vuoi fare una partita a basket, là vicino ai quattro vele ci sta un campo di basket, come si chiama? Delfino Verde, no quello sta troppo sotto, al Belvedere c'è un campo di, dico vieni là, fate vedere, non c'è problema, ti dico una partita a basket, va bene, quello è solo l'invidia Allora uno ha scritto